L'estate bagnatissima 2014 porta anche qualche buona notizia, così come nel 2013 le aspettative dei fungaioli sono molto alte. Quest'anno complice il maltempo, la raccolta è già cominciata con circa un mese di anticipo. In Valnure c'è grande soddisfazione. I funghi ne trovano beneficio perché stanno crescendo abbondanti e per noi è un prodotto molto importante perché c'è molta gente che viene a cercare i funghi in alta Valnure e chiaramente è una risorsa importante per il territorio perché vengono, si fermano a mangiare, fanno spesa e per noi è un prodotto veramente importante. La stagione non è stata al massimo, però adesso incominciano a uscire abbondanti e quindi speriamo che continui così. Quali sono le zone migliori? Chiaramente c'è l'alta montagna con Ferriere, la zona di Ferriere, i monti di Ferriere, chiaramente sono i più importanti, ma anche farine con menogose, con pradovera, con mareto, il territorio è tutto per i funghi. Marco Delle Donne, direttore del programma di sicurezza alimentare dell'Asla di Piacenza, fornisce però ai microfoni di Tele Libertà alcuni consigli utili per evitare di portare sulle nostre tavole alimenti velenosi. Lo scorso anno i ricoveri per intossicazioni nel Piacentino sono stati 5, 2 in meno del 2012, ma spiega delle donne, solitamente al pronto soccorso giungono i casi più gravi. Per essere certi di ciò che si mangia, a disposizione gratuita degli interessati è già attivo un numero telefonico. Si tratta di un riferimento per fissare un appuntamento e verificare il raccolto. È il 348 31 11 720. Da settembre inoltre, tutti i lunedì e i venerdì, riapriranno anche gli ambulatori di Piacenza e Fiorenzuola, dediti all'identificazione dei funghi raccolti. Se per ristoratori e commercianti la certificazione dei prodotti utilizzati è d'obbligo, anche ai privati è fortemente consigliata una verifica. Visto che appunto il servizio non costa nulla, un occhio in più di un esperto non guasta, anche se uno si ritenesse esperto di funghi, comunque è una garanzia in più che anche qualcun altro ha dato il medesimo giudizio. Ricordiamo anche i sintomi, quali sono i campanelli d'allarme? Ma allora, l'intossicazione più frequente che abbiamo riscontrato è poi quella da finferri o galletti, anche chiamati galletti, che spesso c'è un fungo tossico che viene confuso abbastanza facilmente con questi. Ma questo qui ha per esempio dei sintomi abbastanza, dà dei sintomi abbastanza veloci. Nel giro di un quarto d'ora uno incomincia ad avere del vomito, poi subentrano dolori addominali e poi dei problemi intestinali. Quindi se uno appunto ha mangiato dei funghi, di questa tipologia di funghi, e dopo un quarto d'ora incomincia ad avere del vomito, direi che è il caso di andare a farsi vedere al pronto soccorso. Dove appunto intervengono degli esperti anche per diagnosticare immediatamente? Sì, una volta che queste persone arrivano al pronto soccorso, i medici del pronto soccorso allertano un servizio di reperibilità di questi micologi dell'AS, sono in sei micologi che turnano, e quindi il micologo interviene per dire al medico di che tipo di fungo si tratta, in base a questa informazione poi il medico deciderà la terapia più idonea. Grazie. 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 Grazie.